Una conferenza stampa organizzata dall'ASL con cadenza ormai periodica ha illustrato la situazione sanitaria legata al Covid-19. Sono 313.327 le vaccinazioni anti-Covid effettuate dall'ASL dall'inizio della campagna. Dall'inizio dell'anno invece l'obiettivo era di avere 1.902.000 vaccinazioni al giorno e 50-60.000 entro il 31 gennaio. Il dato racconta di 25.591 vaccini nei primi 15 giorni con una media di 1.700 al giorno, in netto miglioramento rispetto a luglio scorso dove i vaccini erano meno di 1.400. Al 17 gennaio le persone vaccinate con prima dose sono 128.668 pari all'81,15% della popolazione. Rimane molto basso il numero dei vaccinati tra i bambini della fascia 5-11 con 699 adesioni su 8.321 pari all'8,40%. A queste si aggiungono 504 prenotazioni che saranno chiamate entro il 7 febbraio. Quanto agli over 50 obbligati al Green Pass dal 14 febbraio e quindi al vaccino, le prenotazioni sono soltanto 50, dato compensato nell'ultimo mese dalle vaccinazioni della fascia 50-59, la cui percentuale oggi all'85%. Grazie. Grazie.